benvenuti sul canale di mixer e mix dunque vorrei fare un piccolissimo tutorial su questo argomento chi sono i nostri iscritti molte volte ci chiediamo quando magari vediamo un commento ma questa persona sarà iscritta non sarà iscritta ci sono anche quelli magari che scrivono sono iscritta al tuo canale bla 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 vieni sul mio ricambi a parte che il iscrivi e ricambia non mi piace però alle volte è vero ci sono delle persone che dicono di essersi iscritte poi non le senti più dici ma si sarà iscritta non si sarà iscritta è anche vero che se hai un mucchio di iscritti non è che riesci a seguirli poi tutti insomma soprattutto se non ti arrivano tutti gli avvisi perché alle volte si è vero si attiva la campanella ma gli avvisi non arrivano lo stesso e chissà perché e allora ci viene anche voglia magari di ritrovarli e se tu risulti iscritta a molti più canali rispetto ai canali a cui sei iscritta tu è ovvio che hai fatica anche a capire chi sono come fare a tornare a recuperare queste persone recuperare nel senso magari mettere un commento guardare cosa stanno facendo insomma anche perché l'algoritmo di youtube non presenta sempre probabilmente le informazioni che riguardano i video che vengono messi se non si interagisce quei canali e allora come fare guardate che facile ma veramente adesso vi faccio vedere direttamente sul mio computer mi seguite bene ecco qua allora quando siamo sul nostro canale clicchiamo personalizza canale e ci troviamo su youtube studio poi selezionando da dashboard che la prima voce in alto troviamo questa pagina dove ci sono diciamo tutte le informazioni che riguardano magari l'ultimo nostro video i commenti o queste cose andiamo andando sotto sotto in questa colonna analisi del canale ultimi commenti iscritti recenti facciamo visualizza tutto qui dice ultimi 90 giorni ma possiamo selezionare anche diciamo tutta la durata del nostro canale cioè da quando abbiamo iniziato per cui mettiamo intera durata oppure anche tutto l'anno dipende da cosa vi interessa poi scendiamo selezioniamo 50 righe perché quelle quelle iniziali erano 10 ci mettiamo troppo tempo poi iniziamo a visualizzare questi qui sono tutti i canali che sono iscritti al nostro di canale possiamo andare avanti tornare indietro diciamo ne vediamo 50 alla volta quando troviamo vediamo un pochino è perché ogni tanto controllo ma capita alle volte capita una scritta blu ad esempio questa bene vedete è scritta in blu c'è scritto iscriviti questo è un canale che sei iscritto ma io non me ne sono accorta perciò non sono neppure andata a vedere che tipo di canale fosse in questo caso perciò selezionerò il canale adesso non lo faccio lo farò più tardi vado a vederlo e poi decido se iscrivermi o no volendo potrei anche iscrivermi direttamente da qui però se vado a vederlo posso anche selezionare la campanella e vedere un pochino insomma che tipi di filmati mette che è interessante non ci interessa solo il numero dei canali vero ok sulla prima pagina lo sapete benissimo come funziona potete mettere le playlist che pagina del nostro canale è possibile anche vedere le iscrizioni ma queste non sono le persone che si sono iscritte al nostro canale questi sono i canali a cui ci siamo iscritti noi il consiglio di andare a vedere questo canale che sponsorizzo vivamente si sono sposati quest'anno si sono sposati durante il lockdown a marzo fate un regalo di nozze a loro andateli a vedere iscrivetevi sono due ragazzi simpaticissimi lui si chiama tristan lei si chiama barbara ci sono i video del loro matrimonio e insomma dai forza aiutiamo così bene allora abbiamo finito questo piccolissimo tutorial se magari non so avete qualche dubbio su qualche funzione di youtube e magari ce l'ho pure io possiamo sempre metterci all'opera tutti insieme cercare di capire come funziona questo come funziona quello però guardate c'è una pagina di youtube che è molto importante seguire ed è youtube creator su youtube creator vi danno un sacco di informazioni è meglio che su youtube cosa volete ci sono anche dei corsi da fare sono anche simpatici perché poi sono corsi che finiscono come dei quiz che dovete superare ci sono dei livelli e ogni tanto li faccio va bene grazie per essere stati sul mio canale se volete lasciate un like se volete iscrivervi lo sapete che io ne sono contenta e ricordatevi la campanella e den 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 ciao 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 grazie a tutti ciao ciao carissimi ciao